Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra serie dedicata ai mondiali di calcio con cui stiamo ripercorrendo la storia dei mondiali dal 1930 fino al 2018 e vi accompagneremo con queste storie fino veramente ai giorni immediatamente precedenti l'inizio dei mondiali di quest'autunno del 2022 in Qatar. La puntata di oggi, lo dico molto spesso ma in questo caso ha una valenza anche molto personale, è una puntata molto importante, quella dedicata a USA 1994. Dopo i mondiali del 1990 in Italia quelli di USA 94 furono mondiali della svolta, della svolta dal punto di vista regolamentare, come vedremo, della svolta dal punto di vista di dove si svolsero perché furono i primi mondiali che non vennero fatti né in America Latina né in Europa e in effetti aprirono la strada ai mondiali moderni che sono fatti praticamente in ogni zona del globo ma furono mondiali molto particolari anche per il loro svolgimento perché come vedremo a partire dalla fase di qualificazione ci furono una marea, una marea di sorprese con squadre che letteralmente in pochi minuti ribaltarono completamente il loro destino e tra queste squadre c'è anche l'Italia che ha, potremmo dire, una prima parte del torneo e una seconda parte del torneo che cambia in un minuto precisissimo. Quindi, prima di iniziare, come sempre ringrazio Matteo che mi ha fornito gran parte del materiale per questa pidola e tutti quelli che mi danno consigli su come andare avanti questa serie che è sempre faticosa perché mi piace riempirla di aneddoti. Se non siete già iscritti al canale e non volete perdervi le prossime puntate, fatelo cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video sigla e poi iniziamo a raccontare. Come vi dicevo, e giuro vi rubo due o tre minuti personali e basta, questi mondiali sono importanti anche dal punto di vista personale perché se è vero che in effetti qualche immagine, qualche ricordo di Italia 90 ce l'ho ma avevo appena quattro anni e mezzo, quindi ovviamente sono pochi e più che altro la mascotte, curiosamente, i mondiali di USA 94 sono i primi che ricordo anche dal punto di vista prettamente sportivo e vi devo dire, anche andando a rivedere certe cose del passato, che anche se sono poi passati solamente 28 anni, non mille per intenderci, non stiamo parlando di un secolo fa, in realtà quei mondiali e il modo in cui veniva vissuta la preparazione di quei mondiali sono rispetto ad oggi completamente diversi. Oggi i mondiali vengono sì raccontati mentre si svolgono, ma sostanzialmente arriviamo fino a quel momento senza una grossa preparazione, perché non serve, perché se io voglio sapere qual è la squadra dell'Arabia Saudita posso andare a cercare su internet e se voglio sapere quanti gol ha fatto l'attaccante dell'Arabia Saudita anche quello lo trovo e magari su YouTube trovo una collezione dei suoi migliori gol. Bene, nel 1994 tutto questo non esisteva e quindi nelle settimane e nei mesi precedenti i giornali, le riviste, persino i giornali per bambini come ad esempio Topolino o Il Giornalino preparavano gli appassionati ai mondiali tramite tutta una serie di materiali, stavolta staccabili, speciali in cui le squadre venivano presentate, venivano presentati i giocatori e veramente a volte si veniva a scoprire di mondi calcistici di cui durante gli altri quattro anni non si sapeva assolutamente niente. Era una preparazione al mondiale che oggi forse un po' è venuta meno voi anche perché sono otto anni che l'Italia non partecipa ma che un briciolino manca. Il secondo ricordo che volevo lanciarvi era un altro c'era un'altra curiosità, non è ovviamente legata solo a 1994 perché era qualcosa che esisteva già da parecchi anni ma se oggi vogliamo rivedere un gol basta andare su internet, su YouTube e quel gol lo troveremo magari bisogna far passare qualche ora dopo la partita ma poi lì rimarrà per sempre. All'epoca non era così e se uno voleva rivedere un gol tante volte lo andava a rivedere sui giornali o sulle riviste perché ovviamente non è che i giornali avevano il video in copertina non sono i giornali di Harry Potter ma avevano delle vignette che letteralmente raccontavano il gol ne vedete una qui a fianco in cui la posizione dei giocatori il modo in cui veniva lanciata la palla ci permettevano anche a chi non avesse visto la partita e magari si fosse perso gli highlights di poter capire come era stato fatto quel gol. La curiosità, una delle curiosità è che uno dei disegnatori più famosi negli anni 90 di questo tipo di vignette o come veniva chiamata la moviola simile alla moviola che si faceva in televisione si chiamava Franco Bochicchio ed è il padre di Francesco Bochicchio lo storico che chi segue anche le altre pilole ci racconta spesso il mondo dei treni e quindi volevo ringraziarlo perché i suoi disegni che ad esempio questi li faceva su Tutto Sport sono letteralmente un pezzo della mia infanzia quindi grazie perché magari chi è più giovane non li ha mai visti ma questo era il modo in cui noi vedevamo il calcio all'epoca. Chiuso qua, momento piccolo, momento lacrimuccia ma secondo me ci stava assolutamente bene credo che molti abbiano vissuto come me quel periodo. Partiamo dall'inizio perché i mondiali negli Stati Uniti? Ora nel 1994 o meglio nel 1988 quando i mondiali vennero assegnati era ormai abbastanza chiaro a tutti che non si potessero organizzare i mondiali sempre e solo negli stessi stati che fosse necessario in qualche modo allargarsi. Lo voleva soprattutto la FIFA che in qualche modo voleva per motivazioni prettamente economiche diciamolo chiaramente portare i mondiali anche al di fuori del classico circuito. Per questo ci furono delle candidate che vennero da altre zone e le due candidate che arrivarono per così dire allo spareggio furono il Marocco, africana tirata dal fatto che in quegli anni il movimento africano stava crescendo e poi sarebbe culminato nel 1990 con il Camerun e gli Stati Uniti. Ora, delle due nazioni quella che aveva maggiori conoscenze calcistiche un campionato più avanzato era il Marocco. Gli Stati Uniti addirittura nel 1988 un campionato nazionale non ce l'avevano perché il loro ultimo campionato nazionale la Nasle era fallita nel 1984-1985 e quindi sembrava che non avessero nessuna possibilità. Però erano gli Stati Uniti erano un mercato ricco erano potenti dal punto di vista politico e così la FIFA che ovviamente aveva interesse a cercare di esportare il calcio in uno stato che all'epoca era la prima economia del mondo lo è in effetti ancora adesso ma all'epoca era decisamente più incontrastata decise di affidare i mondiali proprio agli Stati Uniti chiedendo loro al massimo giusto pro forma di organizzare un nuovo campionato nazionale che però non partì neanche in tempo per i mondiali perché iniziò addirittura nel 1996 quando iniziò a tutti gli effetti l'MLS Ora l'esperimento possiamo dire che in effetti a posteriori riuscì perché i mondiali vennero ben organizzati furono mondiali che dal punto di vista della partecipazione del pubblico furono molto seguiti anche dal pubblico statunitense che peraltro non conosceva praticamente nulla del calcio per la maggior parte calciatori che erano delle superstar mondiali arrivarono negli Stati Uniti e si resero conto che non li conosceva nessuno ci sono racconti gustosissimi di grandi campioni che si sono visti chiedere il passaporto quando atterravano con l'aereo cosa che in Europa non serviva tutti li conoscevano o magari fermati per strada per chiedere informazioni senza essere riconosciuti quindi scene assolutamente molto particolari furono mondiali che in effetti instillarono un po' di curiosità negli statunitensi per il calcio ma bisogna dire che probabilmente il calcio è oggi così diffuso negli Stati Uniti forse non a livello degli altri sport come importanza ma sta crescendo più che grazie ai mondiali che magari diedero il via grazie ad altri avvenimenti successivi come le vittorie della nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti che poi per anni tra la fine degli anni 90 inizio 2000 dominò il calcio femminile oppure l'arrivo di nuovi campioni proprio in Nord America nell'MS però insomma in qualche modo i mondiali qualcosina fecero dal punto di vista organizzativo ci fu un tripudio per gli sponsor un tripudio per la FIFA ma anche alcune scelte abbastanza poco tollerabili tra cui soprattutto la scelta di orario perché per motivi prettamente televisivi la FIFA insistette che si giocasse in un orario che fosse compatibile con l'Europa perché se si fosse giocato di sera negli Stati Uniti come era a prassi l'Europa avrebbe visto le partite in piena notte il risultato fu che le partite vennero giocate a mezzogiorno o nel primo pomeriggio in piena estate negli Stati Uniti addirittura negli Stati del Sud la finale venne giocate in California in un caldo devastante e le prestazioni dei giocatori tra cui anche quelli della nazionale italiana ne risentirono parecchio ma furono decisioni e tali rimasero vi dicevo nell'introduzione che ci furono anche delle modifiche regolamentari vero ora il calcio negli Stati Uniti era un po' diverso pensate che l'MLS quando iniziò aveva introdotto delle cose fuori dal mondo tipo il tempo effettivo quindi veniva interrotto il tempo quando la palla usciva o invece dei rigori facevano gli shootout magari qualcuno se lo ricorda col giocatore che aveva tot secondi partendo più o meno dal cerchio di centrocampo per andare a segnare contro il portiere no quelle non furono le innovazioni no le innovazioni furono diverse furono innanzitutto nel punteggio dopo Italia 90 ci si era resi conto che le squadre preferivano i pareggi piuttosto che rischiare di perdere o rischiare di vincere e per questo si decise di cambiare punteggio dando un punto per i pareggi e tre punti per la vittoria cosa che ovviamente continua ancora adesso c'è la curiosità che nelle qualificazioni questo cambiamento non venne ancora assorbito e le qualificazioni vennero invece fatte con due punti per la vittoria e uno per il pareggio il secondo cambiamento arrivava invece da una proposta europea nel 1992 la Danimarca aveva molto a sorpresa vinto gli europei ora non che la Danimarca non fosse una squadra decente per carità e aveva avuto gli europei sono famosi per avere queste storie di squadre particolari che li vincono pensate solo alla Grecia qualche anno dopo però la Danimarca aveva un po' troppo sfruttato una regola presente nel calcio cioè la possibilità per i giocatori quando non sapevano come mandare avanti la palla di rifugiarsi verso il portiere che ovviamente prendendo la palla con le mani la toglieva dalla disponibilità degli avversari bene questo metodo rendeva le partite praticamente bloccatissime e per questo si decise che il retropassaggio verso il portiere non avrebbe più permesso al portiere di prendere la palla con le mani cioè avrebbe dovuto gestirla con i piedi rendendo le cose molto più complicate soprattutto all'epoca quando i portieri non erano così abili a giocare con i piedi come adesso e in effetti portando ad alcuni errori che ci furono anche ai mondiali quindi queste regole cambiarono ci furono poi delle innovazioni dal punto di vista regolamentari con il risultato che non solo ci furono molti errori sia nelle qualificazioni che ai mondiali ma ci furono anche tante espulsioni perché venne introdotta la regola che qualunque intervento da dietro portasse a un cartellino rosso vedremo che ci saranno tante espulsioni in questo mondiale e un po' un cambiamento rispetto ad appena dieci anni prima quindici quindici vent'anni prima quando invece i fallacci erano assolutamente all'ordine del giorno e forse anche per questo ripeto ci furono così tante ammunizioni così tante espulsioni parlato già un po' troppo dal punto di vista regolamentare passiamo alle qualificazioni i mondiali di USA 94 furono gli ultimi mondiali a 24 squadre da 1998 in Francia si passerà a 36 squadre comunque ci fu già un piccolo una piccola riorganizzazione dei posti e le qualificazioni ne risentirono partiamo dall'inizio perché già nelle qualificazioni ci sono state tantissime sorprese partiamo dall'inizio CONCACAF quindi centro nord america nel CONCACAF di grosse sorprese non ce ne furono avevano a disposizione due posti e un quarto il che non vuol dire che potevano mandare una squadra di tre giocatori ma che due posti erano assicurati uno per gli Stati Uniti padroni di casa e da lì non ci si scappava uno per chi avesse vinto le qualificazioni che questa volta non vennero agganciate alla Gold Cup ma furono un evento a parte e le qualificazioni dopo aver saltato Italia 90 per la squalifica vennero vinte dal Messico ok la seconda classificata che fu il Canada avrebbe partecipato agli spareggi interzona in cui però la prima la seconda classificata della CONCACAF avrebbe giocato contro la prima classificata dell'Oceania in uno spareggio ma il vincitore non sarebbe andato ai mondiali ma si sarebbe dovuto giocare la qualificazione contro una squadra sudamericana insomma una questione abbastanza complessa che poi vedremo come si risolverà se ci spostiamo in Sud America le cose invece iniziano a farsi un po' più complicate e in effetti qua ci sono le prime sorprese in Sud America normalmente ci sono dieci squadre a giocarsi il passaggio ai mondiali e i posti disponibili erano tre e mezzo tre diretti e mezzo invece per gli spareggi ora in realtà le squadre erano solo più nove perché se vi ricordate il Cile era stato squalificato dopo la sceneggiata che avevano fatto nelle qualificazioni del 1990 per cercare di escludere il Brasile andatevi a rivedere la pillola se non ve la ricordate e per questo le squadre erano nove ora si potevano organizzare tre gironi da tre mandare le vincitrici ai mondiali si decise di far diversamente venne organizzato un girone da cinque in cui le prime due sarebbero andate ai mondiali e un girone da quattro in cui la prima andava ai mondiali la seconda agli spareggi vabbè decisioni loro ad ogni modo nel girone da cinque sembrava che due squadre potessero dominare facilmente cioè il Brasile e l'Uruguay se il Brasile in effetti farà il suo lavoro arriverà prima e andrà ai mondiali l'Uruguay a sorpresa invece sarà eliminata ad opera della Bolivia ora la Bolivia era una delle squadre più deboli del Sud America forse davanti all'Equador e al Venezuela ma ne ho anche di tanto una squadra che aveva già si partecipato ai mondiali ma vi aveva partecipato quando non c'erano qualificazioni cioè quando bastava iscriversi per partecipare e senza peraltro ottenere grossi risultati in quegli anni però Venezuela aveva messo su una buona squadra non tanto dal punto di vista dei giocatori forse l'unico buon giocatore si chiamava Marco Eceverri ed era detto è il diablo per l'aspetto che aveva era un trequartista a seconda punta giocava con numero 10 ma diciamo era forte per essere un boliviano ma quando vieni in Europa non fece esattamente grossi sfraceli no la squadra in effetti però giocava decisamente bene grazie al fatto di aver assoldato un allenatore spagnolo o meglio basco il quale era arrivato in Bolivia e aveva imposto alla squadra dopo aver selezionato i giocatori migliori degli allenamenti molto molto specifici che avevano avuto i loro frutti e avevano creato una buona squadra poi la Bolivia aveva sempre il bonus dello stadio di casa perché la Bolivia giocava le sue partite in casa allo stadio della capitale di La Paz che sembra una cosa normalissima ma La Paz è in altura e questo ovviamente portava le squadre che andavano a giocare lì a giocare in condizioni pessime e dava ovviamente un vantaggio alla Bolivia tutte queste cose messe insieme al fatto che l'Uruguay fosse in quegli anni non una squadra così forte permisero alla Bolivia di qualificarsi e di andare ai mondiali l'altra sorpresa ci fu invece nel girone da quattro ora il girone da quattro sulla squadra sulla base di base doveva avere un solo dominatore cioè l'Argentina l'Argentina in quegli anni aveva in effetti uno squadrone dimenticatevi la squadra di Italia 90 che era una squadra debole arraffata che era arrivata in finale trascinata da Diego Armando Maradona e un po' dalla fortuna dimenticatevi la squadra dell'86 che aveva come unici campioni Maradona e Valdano e tutto il resto degli onesti pedatori no l'Argentina all'inizio degli anni 90 era riuscita a mettere su veramente veramente uno squadrone una squadra che addirittura aveva vinto le ultime due coppe America nel 1991 e nel 1993 e nello stesso anno aveva vinto anche la prima Confederation Cup cioè una coppa che era stata organizzata in Arabia Saudita si chiamava ancora Coppa di Refad unendo i vincitori di quattro campionati locali quindi l'Argentina il vincitore della Gold Cup l'Arabia Saudita vincitore della Coppa d'Asia e il vincitore della Coppa d'Africa aveva vinto ovviamente l'Argentina l'Argentina come vi dicevo dalla cintola in avanti era strepitosa non che andasse male in difesa ma diciamo che c'era di meglio ma dalla cintola in avanti era strepitosa a gestire il gioco c'era un giocatore che oggi è un po' dimenticato ma che secondo me era bravissimo che si chiama si chiama Redondo un giocatore che giocao nel Real Madrid un bravissimo era chiamato pensate quando giocava nel Real il Principe era il classico giocatore che letteralmente non gli stacchi la palla dai piedi la recupera la pulisce e con dei passaggi incredibili riesce a lanciare le punte ora un giocatore così ovviamente era un po' leggerino e per proteggerlo c'era uno dei mediani più forti della storia argentina cioè Diego Pablo Simeone l'attuale allenatore dell'Atletico Madrid che esattamente come le sue squadre attuali era un giocatore ruvido tosto e che non riuscivi a sorpassare perfetto per accoppiarsi a redondo e chi lanciava i palloni di redondo beh lanciava un trio d'attacco veramente veramente forte innanzitutto c'era ancora Canigia che però fortunatamente aveva potuto lasciare quel suo ruolo strano in Italia 90 di prima punta mobile ed era potuto tornare a fare l'ala che era il suo ruolo reale perché davanti c'era una coppia di cannonieri peraltro legata al campionato italiano cioè Abel Balbo ma soprattutto Re Leone Gabriel Omar Battistuta ora per chi non l'ha visto Battistuta negli anni 90 era probabilmente mettiamoci alla fine insieme a Vieri e a Ronaldo che vabbè quello era un altro livello comunque il miglior cannoniere esistente nel campionato italiano non era particolarmente tecnico diciamo non aveva un tocco di palla così pulito ma era un giocatore che sapeva colpire la palla con una forza incredibile che fosse di testa che fosse in acrobazia che fosse di piede tirava delle cannonate verso la porta e in effetti all'epoca bisognava assolutamente prenderlo al fantacalcio all'epoca giocava già nella Fiorentina nel 1994 bene dalla cintola in su come vi dicevo l'Argentina era strepitosa ma gli mancava qualcosa o meglio gli mancava qualcuno gli mancava Diego Armando Maradona nel 1993 94 Maradona non era ancora esattamente un ex giocatore ma quasi nel 1991 era stato beccato positivo quando ancora giocava in Italia era stato beccato positivo ad un controllo antidoping positivo non al doping ma positivo alla cocaina ed era stato quindi sospeso la cosa aveva creato ovviamente una spaccatura nell'ambiente napoletano Maradona aveva accusato il presidente Ferlaino con cui peraltro già non era più in buoni rapporti di non averlo difeso e aveva chiesto la cessione era andato a giocare a Siviglia qui aveva fatto una discreta annata bisogna dire anche se dopo quasi un anno di stop non era più lui aveva arretrato la sua posizione era decisamente ingrassato ma era diventato un ottimo uomo assist le cose però nella seconda parte dell'anno erano peggiorate era iniziato gli screzzi con l'ambiente aveva iniziato nuovamente a prendere ancora più peso e alla fine era tornato a giocare in Argentina per i New World Sold Boys qui però aveva giocato una manciata di partite si era preso un milione e mezzo di dollari e aveva smesso di giocare quando l'Argentina un po' a furor di popolo chiese di andare a recuperare Maradona lui non era in condizione di giocare pesava più di 90 kg si dicesse che fosse 20 kg sovrappeso insomma qualcosa di assolutamente intollerabile e che ormai fosse un ex giocatore ma l'Argentina serviva perché se era andata tanto bere in Coppa America nelle qualificazioni non andò così bene anzi venne non solo battuta nel girone dalla Colombia che più o meno aveva la stessa squadra che aveva affrontato il mondiale quattro anni prima con l'esclusione del portiere René Gita ve lo ricordate quello dello Scorpione che non poteva giocare perché si era beccato sette mesi di galera per avere aiutato a rapire una donna insomma tutte questioni abbastanza normali in un paese in cui i cartelli della droga spadroneggiavano ma non solo era stata battuta nel girone e poteva capitare ma addirittura la Colombia aveva battuto nella partita contro l'Argentina aveva vinto la Colombia per 5 a 0 veramente una vergogna nazionale peraltro con l'attaccante colombiano Valencia che proprio in quella partita si era meritato l'appellativo di il treno ve lo lascio come curiosità e quindi l'Argentina aveva chiesto prima di andare a partecipare ovviamente alle qualificazioni interzona per riuscire ad arrivare ai mondiali aveva chiesto a Maradona di tornare a giocare e Maradona aveva promesso che si sarebbe rimesso in forze che avrebbe fatto di tutto allenamenti durissimi per tornare nelle sue forme corrette ed essere pronto per i mondiali ce la farà? beh lo vedremo quando arriveremo a parlare dei mondiali veri e propri le qualificazioni africane invece non riservarono grosse sorprese si qualificarono le due nazionali che forse più di tutto avevano rappresentato la crescita dell'Africa all'epoca cioè il Marocco e il Camerun Camerun che peraltro portò ai mondiali ancora una volta Roger Millan nonostante avesse 42 anni e questo è assolutamente incredibile e dato che l'Africa per la prima volta aveva a disposizione addirittura un terzo posto per una terza squadra da portare ai mondiali la Nigeria che in quegli anni stava diventando la nazione dominante del movimento calcistico africano e non solo nella nazionale maggiore no no assolutamente negli anni 90 la Nigeria anche a livello giovanile era fortissima anzi forse ancora più forte a livello giovanile dove non era solo dominante in Africa ma era dominante anche a livello mondiale quindi insomma assolutamente delle ottime squadre di queste tre squadre vi dico già che le due squadre che sono soprannominate leoni cioè i leoni dell'Atlante e i leoni indomabili cioè il Marocco e il Camerun non andranno bene verranno eliminate i gironi poi vedremo la Nigeria le super aquile invece faranno veramente veramente un figurone ma ripeto di questo ne parleremo tra poco in Asia le cose invece andarono più o meno anche qui come erano state previste ci furono tutta una serie di eliminazioni di eliminatorie e alla fine si decise di fare un ultimo girone eliminatorio con cui scegliere le due nazionali da mandare mondiali un girone eliminatorio che si tenne a Doha ora la prima nazionale a qualificarsi fu l'Arabia Saudita che in quegli anni era la nazione dominante in Asia una nazione che era cresciuta nel corso del tempo e che aveva delle ultime tre coppe d'Asia ne aveva vinte due e di una era arrivata in finale quindi una nazione assolutamente fortissima anche se bisogna dire non aveva grossissimi nomi quantomeno all'epoca nessuno li conosceva l'altra nazione che tutti aspettavano era il Giappone una nazione che fino a qualche anno prima non aveva una grossa presenza dal punto di vista calcistico ma che probabilmente aveva visto l'affermarsi del calcio al suo interno grazie ai fumetti perché da quando erano iniziati a circolare dei manga che parlavano di calcio a cominciare da Capitan Tsubasa che tutti noi conosciamo come Oli e Benji i giapponesi avevano iniziato ad appassionarsi al calcio le squadre erano cresciute i giocatori erano cresciuti e così il Giappone era diventata una delle nazionali più forti dell'Asia e addirittura aveva battuto proprio l'Arabia Saudita nella finale dell'ultima Coppa d'Asia il Giappone arrivò all'ultima partita contro l'Iraq però non ancora sicura della qualificazione anzi giocandosi tutto contro la Corea del Sud beh tutto al Giappone in effetti bastava vincere anzi sarebbe bastato fare lo stesso risultato della Corea del Sud ma questi la loro ultima partita la vinsero senza problemi e in effetti il Giappone contro l'Iraq sembrava potercela fare passo in vantaggio 2 a 0 2 a 1 ma sul 2 a 1 al 91esimo tutti erano abbastanza tranquilli e poi successe il patatracke in quello che i giapponesi ricordano ancora oggi come l'agonia di Doha mentre ovviamente gli abitanti della Corea del Sud ricordano come il miracolo di Doha perché ovviamente ci sono le due versioni al 91esimo con uno schema assolutamente casualissimo da calcio d'angolo fatto dall'Iraq la palla arrivò nell'area giapponese e poi carambolò in rete i giapponesi di fronte a quel gol andate a vedere le immagini crollarono a terra disperati battendosi la testa coprendosi inginocchiandosi perché l'avevano fatta grossa e così ai mondiali andò ancora una volta la Corea del Sud che non farà un grosso figurone chissà cosa avrebbero potuto fare i samurai blu come vengono chiamati i giocatori del Giappone mentre invece la rabbia qualcosina farà ma anche questo lo vedremo tra poco ci rimane l'oceania l'oceania che abbiamo sempre visto essere un porto di mare beh finalmente l'oceania si era sbarazzata di tutti gli stati che dell'oceania non facevano parte anche perché finalmente ben sette nazionali dell'oceania si presentarono ai nastri di partenza in realtà le uniche due che avevano qualche speranza di potersi giocare in mondiale erano la nuova azeranda e l'Australia che in effetti si giocarono l'ultima partita che fu vinta dall'Australia peccato che l'oceania non avesse diritto a un posto mondiale aveva diritto ad un quarto di posto al mondiale e l'Australia fu costretta a giocare gli spareggi interzona il primo spareggio che giocò con il Canada nonostante le difficoltà fu vinto però dall'Australia che andò quindi a giocarsi tutto per tutto proprio con l'Argentina in crisi all'andata le cose andarono bene un bel pareggio ma al ritorno in Argentina seppur con tanta difficoltà l'Argentina riuscì a strappare un 1 a 0 che la qualificò ai mondiali e le permise così di raggiungere le altre sudamericane per l'Oceania ci sarebbe voluto ancora un po' di tempo ne riparleremo in futuro e a questo punto ci rimane ovviamente un solo continente quello dove le cose sono sempre più complicate cioè l'Europa che però non solo è quello dove le cose sono più complicate ma è anche quello dove ci furono le maggiori sorprese da dove cominciamo? beh partiamo dal dire che le cose in Europa erano un po' cambiate innanzitutto alcune squadre erano scomparse era scomparsa l'Unione Sovietica che era una delle squadre più importanti all'epoca in Europa ricordatevelo non tanto forse nei mondiali quanto negli europei squadra che si era disgregata con la disgregazione dell'Unione Sovietica sostituita dalla Russia una Russia decisamente più debole rispetto all'Unione Sovietica ma che comunque riuscirà ad arrivare ai mondiali altre squadre stavano scomparendo stava scomparendo la Jugoslavia che a causa della guerra civile non ebbe il permesso di partecipare alle qualificazioni stava sparendo la Cecoslovacchia che anche se dal primo gennaio 1993 non esisteva più come un unico Stato diviso tra Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca decise di completare le qualificazioni con una squadra unificata squadra che non riuscirà a qualificarsi e porrà così fine alla storia della Cecoslovacchia che se ci pensate è una storia molto importante dato che era arrivata addirittura due volte in finale nei mondiali e aveva vinto in passato anche un trofeo europeo la curiosità ve la giuro dico come ultima cosa è che a livello mondiale la FIFA riconosce i risultati della Cecoslovacchia sia alla Repubblica Ceca che alla Repubblica Slovacca in Europa però le cose non sono così perché la UEFA riconosce invece i risultati della Cecoslovacchia solo alla Repubblica Ceca che è considerata un po' la continuatrice un po' come riconosce i risultati dell'Unione Sovietica solo alla Russia è una curiosità e strana questa disparità di vedute tra le due tra i due gruppi ma insomma decidete voi qual è la soluzione migliore come vi dicevo però in effetti di sorprese ce ne furono tante la Germania ovviamente non partecipò ai mondiali non c'era più la Germania Est dalle qualificazioni chiedo scusa non c'era più la Germania Est c'era una Germania unificata che però aveva mantenuto i titoli della Germania Ovest tra cui anche il fatto di aver vinto i mondiali del 1990 e quindi di poter partecipare direttamente a quelli del 94 le altre squadre furono divise invece in sei gironi alcuni da 5 alcuni da 6 alcuni da 7 questo motivazioni legate agli cambiamenti anche politici e alla fine le prime due di ogni girone si qualificarono per i mondiali e ci furono delle esclusioni eccellenti ci fu ad esempio l'esclusione dell'Inghilterra che era arrivata quarta ai mondiali del 1990 ma che non riuscì a qualificarsi con una squadra che peraltro era completamente allo sbando non riuscirà a qualificarsi neanche la Danimarca che aveva vinto gli europei nel 1992 ma probabilmente la squadra che nessuno si aspettava che non potesse qualificarsi fu la Francia la Francia infatti a due giornate dal termine del suo girone sembrava essere pronta a qualificarsi aveva una buona squadra faceva parte all'esempio Papen che era uno dei migliori bomber all'epoca in circolazione in Europa una squadra che però era guidata da un giocatore fenomenale Eric Cantona che forse oggi viene più ricordato per le sue intemperanze famoso perché qualche anno dopo colpì un tifoso avversario durante una partita in Inghilterra giocava nel Manchester United con un colpo di Kung Fu e venne squalificato per sei mesi che è famoso anche per delle pubblicità tra cui una bellissima in cui alzandosi il bavero dicendo Orwar colpiva un demone sapete le classiche pubblicità sportive andatevele a rivedere è assolutamente bellissimo il Colosseo bene nonostante questi giocatori grazie anche a questi giocatori la Francia due giornate dal termine era non solo praticamente quasi qualificata ma addirittura in lotta per il primo posto nel girone con la Svezia che cosa le serviva per qualificarsi beh veramente pochissimo ne mancavano due partite da giocare una contro Israele in casa Israele che peraltro era la cenerentola del torneo e una sempre in casa contro la Bulgaria e gli sarebbe bastato avere un pareggio in una di queste due partite per qualificarsi ma forse non sarebbe stato necessario neanche quello perché la terza e la quarta nel girone cioè l'Austria e la Bulgaria avrebbero dovuto giocare contro una contro l'altra e se avessero pareggiato la Francia sarebbe stata qualificata le cose però non andarono come era previsto all'81esimo della prima partita quella contro Israele la Francia sembrava già essere appunto qualificata non solo le bastava un pareggio ma stava vincendo addirittura 2 a 1 e poi i blackout Israele all'82esimo prima pareggia e poi otto minuti dopo a tempo quasi scaduto al novantesimo addirittura riesce a fare 3 a 2 una squadra che non aveva nulla da chiedere a quel girone contro una squadra che doveva a tutti i costi qualificarsi fa l'impresa vince 3 a 2 e nella Francia qualche crepa inizia ad aprirsi la seconda crepa la apre la Bulgaria che invece di pareggiare con l'Austria come tutti potevano aspettarsi riuscì a vincere e si presentò al parco dei principi per l'ultima partita sapendo che se avesse vinto sarebbe riuscita ad eliminare la Francia ora stiamo abituati in questo racconto dei mondiali a pensare ad una Bulgaria debole in effetti la Bulgaria ha già partecipato a vari mondiali ma ogni volta non ha raccolto praticamente nulla la Bulgaria di metà anni 90 però è uno squadrone è la cosiddetta generazione d'oro del calcio bulgaro guidata da un giocatore Christo Stoichkov che all'epoca giocava al Barcellona che era uno dei migliori giocatori in Europa era uno di quei giocatori che ti fanno innamorare del calcio tecnico con un controllo palla incredibile sapeva giocare come trequartista la seconda punta ma del Barcellona era addirittura diventato un cannoniere qualche anno prima aveva vinto la scarpa d'oro faceva veramente valanghe di gol ed era considerato uno dei migliori giocatori al mondo ma non c'era solo lui in quella squadra c'era ad esempio Lechkov che era un centrocampista molto abile a inserirsi far gol oltre che essere uno dei giocatori più brutti che siano mai esistiti sulla faccia della terra insomma la foto forse mi spiace fare questo body shaming ma insomma tutto si può dire forché che sia un bel giocatore e poi c'era una punta che una punta pura da affiancare a Stoichkov che all'epoca era in totale stato di grazia che si chiamava Kostadinov la Bulgaria comunque andava a giocare in Francia ovviamente senza nessun favore del pronostico e quando intorno al trentesimo Cantonà portò in vantaggio i francesi per la Bulgaria sembrava tutto fatto Kostadinov però non era d'accordo prima pareggiò 1-1 e poi anche qua a tempo praticamente scaduto grazie a un lancio lungo uno di quelli che si fanno dalla difesa alla spera in Dio dicendo boh non abbiamo più niente da fare speriamo di riuscire a far qualcosa Kostadinov Kostadinov agganciò il pallone superò due difensori francesi bucando la difesa francese e fece gol 2-1 la Bulgaria contro ogni pronostico si era qualificata ai mondiali la Francia andava a casa e la Bulgaria come vedremo farà un grandissimo un grandissimo mondiale una delle cose più divertenti di quella partita furono però i titoli di giornale del giorno dopo uno secondo me veramente perfido disse che Kostadinov aveva qualificato la Francia ai mondiali del 98 questo perché la Francia ai mondiali del 98 ci avrebbe partecipato come nazionale ospitante come dire il 94 l'avete saltato andate al 98 un altro che riprendeva una frase che i bulgari avevano urlato subito dopo la vittoria era questa notte Dio e bulgaro e in effetti quando vedremo i mondiali Dio forse non fu bulgaro solo per quella notte ma vediamo dopo vi racconterò tutto l'Italia beh l'Italia si trovò in un girone non proprio facilissimo a doversi giocare la qualificazione con la Svizzera e il Portogallo una qualificazione che anche complice il fatto che c'erano ancora il punto per il pareggio due punti per la vittoria fu in effetti in ballo fino all'ultimo anche se con la vittoria sul Portogallo all'ultima partita riuscimmo non solo a qualificarci ma anche a superare la Svizzera e a vincere il girone ora l'Italia a differenza di quanto succede solitamente come avete visto facciamo un buon mondiale e la squadra di quel mondiale viene presa e copiata copia e incollata del mondiale successivo dove poi regolarmente invece va malissimo questa volta aveva invece avuto un grosso rinnovamento i mondiali del 1990 infatti avevano creato una spaccatura tra i CT dell'Italia di allora Zeglio Vicini e il presidente della Federcalcio Matarrese il quale si era aveva iniziato ben presto a lamentarsi con i CT dando a lui la colpa del fatto di non aver vinto i mondiali di non aver potuto giocare la finale e quando l'Italia aveva fallito la qualificazione agli europei del 1992 era stato ben contento di lasciarlo a casa e con chi sostituirlo? beh sostituirlo con quello che oggi ancora oggi è considerato uno dei migliori allenatori della storia del calcio italiano cioè Arrigo Sacchi Arrigo Sacchi da Fucecchio è uno di quegli allenatori mitologici in Italia anche lì curiosamente sì ne parliamo ma non tantissimo anche perché si è riuscito a creare un gran numero di antipatie nel corso del tempo ma quando all'estero chiedono di un grande allenatore italiano del passato tutti diranno sempre Sacchi che è stato addirittura votato più volte dalla FIFA come uno dei migliori cinque allenatori della storia bene Sacchi pensate che non era mai stato un giocatore sì aveva giocato come difensore ma solo nelle serie minori e quando aveva smesso di giocare si era messo a lavorare nell'industria di famiglia che era un'industria di scarpe quindi non aveva assolutamente nulla a che fare col calcio da qui però aveva iniziato ad allenare prima nelle serie minori poi sempre più su sempre più su fino ad arrivare a Rimini e qui decidere di trasformare l'allenatore fare l'allenatore nella sua professione da Rimini era passato al Parma aveva fatto sfracelli aveva fatto salire di categoria al Parma era stato notato dall'allora presidente del Milan Silvio Berlusconi ancora presidente del consiglio che lo aveva preso e portato al Milan le sue idee avevano trasformato il Milan che grazie anche all'innesto di campioni grazie al trio degli olandesi era riuscito a diventare il Milan degli immortali un Milan in grado di vincere non solo Scudetto ma addirittura due coppe campioni e due intercontinentali nel 1991 dopo aver dato il benservito vicini Mattarrese andò proprio a prelevare Sacchi che rinunciò alla panchina del Milan e si legò all'Italia una volta arrivato all'Italia ovviamente iniziò a cambiarla diciamo che Sacchi è sempre stato un allenatore decisamente estremista nelle sue idee il suo modulo preferito era il 4-4-2 ora se lo sentite raccontare lui dice sempre che le sue sono formazioni molto propositive che puntano all'attacco puntano alla riaggressione dell'uomo ha un pressing molto spinto ma c'è da dire che sia nel Milan che nell'Italia le sue fortune le fece sempre un'ottima difesa il suo modulo era un 4-4-2 con quattro difensori quattro centrocampisti di cui uno poteva essere avanzato e diventare un'ala e due prime punte che in nostro modo di vedere avrebbero dovuto raccogliere i lanci del centrocampo e attaccare appunto gli avversari in maniera decisamente più aggressiva rispetto ai 4-3-3 all'epoca in cui molto spesso la punta davanti era una sola non solo aveva cambiato lo schema per Osacchi aveva cambiato anche gli uomini e aveva esautorato molti degli eroi del mondiale del 1990 a cominciare dall'Agostini aveva fatto fuori lo stesso Schillaci che per carità era in parabola discendente ma era Schillaci Totò Schillaci l'uomo l'uomo di Italia 90 aveva tolto di mezzo Mancini e Vialli che poi verranno recuperati successivamente ma che insomma non parteciperanno al mondiale aveva lasciato a casa Bergomi che dell'Italia era addirittura il capitano insomma aveva decisamente cambiato le carte in tavola aveva costruito una squadra che ovviamente partiva dal Milan che all'epoca era la squadra dominante in Italia perché anche dopo che lui se n'era andato in Milan aveva vinto tre scudetti consecutivi affidato alle cure di Fabio Capello il primo scudetto quello 90-91 era stato invece vinto dalla Sampdoria ed era forse l'ultimo grande sorpresa del campionato italiano quindi ovviamente la sua squadra partiva dal Milan ma in realtà andò ad inserire moltissimi giocatori rispetto al passato nel 1994 non si può dire che ci fu una formazione tipo perché Sacchi nelle partite da una volta all'altra fece ruotare tantissimi giocatori addirittura due portieri un po' per i cambi di formazione un po' perché l'Italia ci mise molto a carburare a trovare una strada un po' perché in effetti ci furono tra espulsi e infortunati veramente tante tante contingenze quindi io non vi posso raccontare tutti i giocatori alcuni ve li nominerò ma volevo lasciarvi qualche curiosità in porta ad essere esautorato era stato anche Zenga che peraltro io voglio ricordare perché dopo essere diventato un allenatore ha fatto una delle scenette più belle che io ricordi tra un allenatore ed un giornalista con variale dicendo cose che credo gran parte dell'Italia pensasse lo lascio come piccola curiosità al suo posto era stato chiamato Gianluca Pagliuca che all'epoca giocava ancora nella Samp ma che proprio nel 1994 passerà all'Inter era un portiere decisamente molto appariscente molto atletico molto agile tra i pali non molto abile coi piedi nemmeno lui e ogni tanto faceva qualche papera che era famoso all'epoca per essere un ottimo para rigori e questa nomea se la porterà anche nel 1994 e dato che nel 1990 eravamo stati eliminati ai rigori la cosa sembrò portare fortuna sembrò e basta come vedremo verso la fine in realtà come vi dicevo neanche Pagliuca giocherà tutte le partite perché squalificato sarà sostituito da un l'un altro Luca cioè Luca Marchegiani portiere della Lazio creando un certo dualismo tra i due anche se Sacchi gli preferiva assolutamente Pagliuca la curiosità è che i due erano molto molto amici addirittura inizialmente erano anche stati in stanza insieme poi si erano separati perché ovviamente la cosa poteva creare qualche problema la difesa iniziale pensata da Sacchi invece era la difesa del Milan in mezzo giocava il monumento del calcio italiano Franco Baresi ne abbiamo già parlato non ripetiamo a fianco a Baresi giocava invece Billy Costa Curta Alessandro Costa Curta quello era il nome vero che era arrivato al Milan molto più giovane con molti dubbi molti erano convinti che fosse un difensore non abbastanzabile e che invece forse anche grazie alla guida di Baresi era molto cresciuto e divenne uno dei migliori difensori italiani della storia giocare ancora per tantissimi anni nel Milan i terzini erano due terzini molto diversi da una parte c'era Paolo Maldini uno dei migliori difensori non italiani della storia in tutti i ruoli uno dei migliori terzini sinistri della storia insieme a Roberto Carlos su questo ve lo dico per curiosità con Matteo abbiamo discusso una sera ognuno ha le sue idee lui preferisce Maldini io preferisco Roberto Carlos e sono curioso di sapere cosa ne pensiate voi ma insomma veramente un ottimo giocatore dall'altra parte terzino destro invece un po' meno propositivo con una fama decisamente da marcatore e da duro c'era Mauro Tassotti sempre del Milan Tassotti in realtà non sarà titolare in tutte le partite anzi sarà ben presto sostituito da un terzino del Parma ben arrivo che pur essendo anche lui un terzino prettamente più difensivo aveva maggiori capacità di proporsi in avanti e quando l'Italia inizieranno a mancare un po' i gol e la costruzione inizierà a risultare decisamente utile il centrocampo invece vedrà ruotare tantissimi giocatori che in alcune partite saranno 4 in altre partite quando si cercherà di creare una specie di 4-3-3 asimmetrico saranno invece solamente 3 di questi alcuni erano punti fermi innanzitutto c'era Demetrio Albertini Demetrio Albertini che all'epoca giocava nel Milan e poi giocherà nell'Atletico Madrid e nella Lazio era un vero e proprio metronomo di centrocampo non di quei giocatori un po' come abbiamo detto prima a cui arriva la palla e sono loro a decidere come far andare avanti l'azione non solo era dotato di un grandissimo tiro e all'epoca era uno specialista nelle punizioni un altro giocatore da prendere al fantacalcio se tornate in tutto il tempo insieme a lui c'era un altro dai piedi molto molto buoni che si chiamava Dino Baggio ora Dino Baggio era un mediano era fatto per spezzare l'azione molto fisico molto irruento ma anche lui era molto abile negli inserimenti e aveva un tiro da fuori assolutamente devastante come peraltro dimostrerà anche durante lo stesso mondiale a fianco a loro in quasi tutte le partite anche se spesso bisogna dire da subentrante giocava invece il mediano dell'Inter Nicola Berti che però era anche molto duttile sapeva coprire le varie ruole a centrocampo e che per questo molto spesso veniva inserito a sostituire ora l'uno e l'ora l'altro ad affiancarli un gran numero di giocatori peraltro tutti passati per la direzione della nazionale Conte ad esempio Donadoni che tra tutti forse è quello che ha giocato poi più partite e Devani che non è allenatore della nazionale ma è vice allenatore quindi insomma meglio di niente assistente mettiamola così e poi c'era l'attacco bene l'attacco fu la croce e delizia di Sacchi prima del mondiale quell'attacco di punto fermo ne aveva uno solo e quel giocatore era il divino Codino Roberto Baggio un giocatore fenomenale ne abbiamo già parlato nel 1990 un giocatore che all'epoca era all'apice della sua carriera almeno nella considerazione dei tifosi nel 1993 aveva addirittura vinto il pallone d'oro quindi insomma parliamo di un giocatore assolutamente fenomenale chi mettere vicino a lui e alle sue grandissime doti di seconda punta trequartista creatore di gioco beh inizialmente l'idea fu di mettere un cannoniere Beppe Signori della Lazio piccolino molto veloce molto abile a infilarsi in ogni spazio sembrava essere l'uomo perfetto per creare spazi e per sfruttare gli spazi creati da Baggio peccato che le cose tra i due non funzionarono e Signori invece che essere mandato in panca venne spostato largo come fosse un'ala e in effetti non farà un grandissimo mondiale e così altri due giocatori inizieranno a ruotare vicino a Baggio Pierluigi Casiraghi che era un giocatore decisamente più alto decisamente più massiccio uno molto abile sia nel tiro di testa e in acrobazia diciamo una versione un po' più umana di Ibrahimović e così possiamo capire il tipo di giocatore oppure Daniele Massaro che invece era un po' la classica punta centrale pesante quella che magari non fa tantissimi gol ma che si porta via i difensori sa giocare di sponda e aiuta molto l'attaccante con cui gioca peraltro Massaro era conosciuto come provvidenza perché era in grado anche da subentrante di segnare dei gol molto pesanti e anche questo lo dimostrerà ai mondiali insomma poi in quella nazionale c'erano altri giocatori c'era già un Franco Zola di cui purtroppo parleremo in una partita perché le cose non gli andarono benissimo insomma era una bella bella nazionale su cui però il CT sollevò gli ultimi dubbi solo veramente all'ultimo tanto che come vi ho fatto vedere all'inizio della pillola quando vi ho fatto vedere qualcosa del passato e tra cui anche le figurine della nazionale tant'è che quando uscì da raccolta Pagnini della nazionale alcuni giocatori erano sbagliati ma all'epoca non si poteva correggere e così citeremo tutti le collezioni sbagliate pazienza l'Italia dopo essersi qualificata partì per gli Stati Uniti dopo i sorteggi scoprì che avrebbe giocato le sue partite sulla costa S e così si decise di fare la preparazione proprio lì vicino a New York e fu un mezzo disastro perché in realtà faceva un caldo bestiale in tutti gli Stati Uniti ma nella costa S il caldo non era solo grande ma era anche un caldo molto umido con il risultato che i giocatori si affaticheranno tantissimo faranno una pessima preparazione e questo si vedrà poi in tutto il mondiale ma pazienza quella era stata la scelta così avevamo iniziato come partiva l'Italia? beh l'Italia io me lo ricordo partiva non proprio come la principale favorita ma sicuramente come una delle favorite la gente ci credeva è vero le amichevoli premondiali non erano state ottime ma si credeva di poter fare l'impresa che in qualche modo si potesse arrivare in finale e vincere quel mondiale la partenza non fu esattamente delle migliori i mondiali come vi dicevo prima ebbero quindi 24 squadre qualificate alla fine 24 squadre che esattamente come nei due mondiali precedenti vennero divise in sei gironi da cui sarebbero uscite le prime due qualificate e le quattro migliori terze quindi con otto eliminazioni insomma un primo girone decisamente leggero e poi si sarebbe partiti ottavi quarti di finale semifinale e finale il gruppo A sorteggiato era ovviamente il gruppo degli Stati Uniti degli USA che guidati da Bora Milutinovic si erano scelti un classico allenatore da missioni impossibili aveva un solo obiettivo cercare di non sfigurare troppo e se è possibile cercare di passare il girone ora il girone ovviamente era stato costruito sulla carta senza grossi squadroni c'era la Colombia di cui abbiamo già parlato c'era la Svizzera che era stata nel gironi dell'Italia e di cui la stella probabilmente era Ciriaco Sforza che era un trequartista che poi giocherà nell'Inter e che aveva chiaramente origini italiane il padre proveniva da Avellino ma c'era anche la Romania ora non solo la Bulgaria in quegli anni sono vicini aveva uno squadrone una generazione d'oro ma ce l'aveva anche la Romania che era guidata da un altro giocatore fenomenale e talmente bravo da essere soprannominato il Maradona dei Carpazzi che si chiamava Jorghe Agi Agi che Romania era chiamato il re addirittura era uno di quei giocatori totali che sono talmente bravi a giocare a calcio e talmente disordinati nel modo di farlo che li puoi mettere in una qualunque posizione tanto la posizione la sceglieranno loro che sia trequartista che sia ala che sia regista che sia primo o seconda punta non importa dipende come si svegliano Agi era la fantasia fatta persona era le litigate con i suoi allenatori era anche uno dei simboli di quanto forte all'epoca fosse il campionato italiano perché pensate che Jorghe Agi uno dei migliori giocatori del mondo era stato comprato dal Brescia che all'epoca era una squadra di bassa classifica in Italia giocava nel Brescia proveniva dal Real Madrid sarà poi venduto e andrà a giocare nel Barcellona però per darvi un'idea Agi faceva degli ottimi assist per Florin Raduccioiu che nel Milan faceva la riserva ma che in Romania era titolarissimo e che con i suoi gol aveva trascinato la Romania ai mondiali fin dalla prima partita la Romania iniziò a dare spettacolo e battè addirittura 3 a 1 la Colombia a Colombia che in patria era molto quotata proprio per aver vinto il girone di qualificazione nell'altra partita invece Stati Uniti e Svizzera pareggiarono 1 a 1 e gli Stati Uniti nella seconda partita trovati a giocare contro la Colombia addirittura riuscirono a vincere fu una partita molto sfortunata per la Colombia diciamolo in cui dimostrarono di essere più forti ma anche di essere una pessima squadra dal punto di vista caratteriale e persero quella partita 2 a 1 anche grazie ad un autogol uno sfortunatissimo autogol del difensore colombiano Andres Escobar a questo punto praticamente ormai fuori dai mondiali si trovò a giocare con la Svizzera una vittoria che però non le servi a nulla come si qualificarono le altre? beh in effetti la Svizzera riuscirà a qualificarsi grazie a una vittoria sulla Romania che nella seconda partita probabilmente si rilassò prima di andare a battere gli Stati Uniti ma la vera storia legata a questo girone che alla fine vide tre squadre qualificate solo la Colombia eliminata è legata purtroppo proprio ad Andres Escobar quando ancora il mondiale era in corso ma la Colombia era tornata a casa eliminata dal girone e Escobar tornato nella sua città Medellin una sera venne avvicinato da alcuni uomini secondo cosa venne ricostruito quegli uomini iniziarono a insultarlo dissero che a causa del suo errore avevano perso un sacco di soldi che la Colombia era stata eliminata dal mondiale probabilmente erano soldi che erano stati puntati in qualche scommessa clandestina e quando lui aveva cercato di andarsene lo avevano rincorso e lo avevano freddato a colpi di pistola la morte di Escobar morto per un autogol scioccò tutto il mondo e per giorni nonostante ci fosse un mondiale in corso non si parlò di altro all'epoca Medellin ma forse ancora adesso era una delle città più pericolose del pianeta e in quel modo lo dimostrò in maniera decisamente molto molto chiara per quanto sia triste associare queste due cose perché di fronte alla morte di Escobar ovviamente tutto passò un po' in secondo piano il girone B era invece stato definito fin dall'inizio un vero e proprio girone della morte perché vi si trovarono a scontrarsi quattro squadre che erano decisamente quotate cioè il Brasile la Svezia il Camerun e la Russia in realtà per le prime due cioè per il Brasile e la Svezia si rivelò un girone relativamente facile il Brasile era arrivato a quel mondiale non rinnegando quello che era stata la squadra del 1990 ve lo ricordate tra mille polemiche il Brasile del 1990 aveva un po' messo da parte le sue velleità offensive e aveva portato una squadra decisamente quadrata bene anche il Brasile del 1994 era così perché è vero davanti aveva un'ottima coppia d'attacco c'era Bebeto che era piccolino molto abile a sfruttare gli spazi ma soprattutto c'era Romario che all'epoca era uno dei migliori giocatori del mondo un giocatore la cui abilità con la palla classico brasiliano bravissimo a palleggiare a fare dribbling era probabilmente seconda solo alle sue vizze oggi è la parola del giorno ma in effetti i giocatori dell'epoca sembravano essere tutti così era diventato famoso perché quando si trasferiva da una squadra all'altra non solo chiedeva marea di soldi ma chiedeva case chiedeva auto chiedeva camerieri chiedeva insomma di essere coccolato e ovviamente per quanto era bravo da veder giocare bello da veder giocare e bravo a giocare i presidenti erano ben contenti di accontentarlo intorno a loro però la squadra se si fa eccezione per il trequartista Rai e per Leonardo il futuro di essere del Paris Saint Germain il natore del Milan per intenderci il resto della squadra però come vi dicevo era molto quadrato e continuava a ruotare intorno a due mediani Dunga ricordate già da 1990 è diventato peraltro il capitano e Maisigno e anche in difesa le cose andavano bene perché la coppia centrale era fatta da Aldair che i tifosi della Roma poi chiameranno Pluto Aldair perché dicono assomigliare proprio a Pluto e Marcio Santos che poi giocherà nella Fiorentina e in porta c'era ancora Taffareu in panca il Brasile aveva due giovani che faranno la storia di quella squadra uno era Pendolino Cafu ne riparleremo ancora ma che giocò in effetti le ultime partite giocherà la finale da subentrante ed è importante perché è l'unico giocatore della storia ad aver giocato tre finali dei mondiali peraltro consecutive quindi insomma un bel un bel traguardo il secondo era un certo Ronaldo Nazario da Lima che aveva solo 17 anni non giocherà neanche un minuto lui ma diventerà il simbolo del Brasile nei mondiali successivi nei due mondiali successivi di lui riparleremo nel 1998 quando da grande promessa sarà diventato il miglior giocatore del mondo ripeto ne parleremo tra quattro anni non voglio bruciarmelo adesso il Brasile nonostante tutti i dubbi della sua stampa in realtà fin dall'inizio si dimostrò uno schiacciasassi batte la Russia batte il Camerun e all'ultima partita pareggiò con la Svezia una partita che in effetti fu giocata decisamente col freno a mano tirato anche perché anche per i brasiliani il caldo si faceva sentire e come al secondo posto nel girone appunto un po' a sorpresa si qualificò la Svezia su cui nessuno puntava un euro ma che in realtà aveva dei buoni giocatori probabilmente il migliore di tutti si chiamava Thomas Brolin era un centrocampista che all'epoca giocava nel Parma un ottimo trequartista che purtroppo per lui l'anno dopo si infortunò e non chiuse proprio la carriera ma ebbe un crollo totale nelle prestazioni ma che nel 1994 farò un mondiale assolutamente strepitoso il giocatore più iconico più particolare però era un altro ed era Eric Larson che chi si ricorda il calcio dell'epoca se lo ricorda probabilmente nel Celtic Glasgow dove giocò per anni e che giocava con dei lunghi dreadlocks Biondi che era una cosa molto particolare da vedere in un giocatore svedese ad ogni modo la Svezia dopo aver pareggiato la prima partita contro il Cameron battuta la Russia nella seconda riuscì a pareggiare la terza e ultima col Brasile riuscendosi in questo modo a qualificare come seconda l'ultima partita tra Russia e Cameron quindi sulla carta sembrava una partita che non si arriva a nessuno senza che nessuno potesse non solo andare a rubare il secondo posto ma neanche qualificarsi anche se in effetti il Cameron vincendo avrebbe potuto in qualche modo provare a giocarsela per la qualificazione ma questo andò bene all'Italia vedremo tra poco perché l'ultima partita però appunto nonostante sembrasse una partita qualunque divenne una partita epica per due motivi innanzitutto perché la Russia vinse 6 a 1 quindi una goleada assolutamente devastante il secondo motivo perché il gol camerunense è anche l'unico gol segnato ai mondiali da Roger Millà che ancora oggi è il giocatore più anziano a più di 42 anni ad aver segnato un gol ai mondiali il terzo motivo è che dei 6 gol fatti dalla Russia ben 5 furono segnati dallo stesso giocatore quel giocatore si chiamava Oleg Salenko e insieme fece 5 gol nella stessa partita che ancora oggi è il record dei mondiali nessun altro nella storia è mai riuscito a segnare 5 gol in una sola partita e che pensate grazie a quei 5 gol e a un gol segnato nella seconda partita fu capocannoniere del torneo anche se la Russia si fermò al girone di qualificazione ci sono altre curiosità che sono carine da raccontare per vedere quanto questo sia proprio un exploato tale anche perché Salenko negli anni successivi non dimostrò in nessun modo di essere un giocatore così forte tutt'altro aveva semplicemente beccato la partita fortunata o sfortunata per il Cameron decidetelo voi bene Salenko quando era crollata l'Unione Sovietica aveva giocato la sua prima partita internazionale per l'Ucraina quindi neanche per la Russia e poi aveva deciso di passare alla Russia con la Russia giocherà in totale 8 partite di cui 4 furono amichevoli 2 furono partite in cui subentrò la prima che giocò che era una partita di qualificazione e la prima partita dei mondiali dove non segnò ma in effetti subentrò a pochi minuti dalla fine e ne giocò solo 2 da titolari cioè proprio le 2 giocate ai mondiali dopo i mondiali Salenko non giocherà mai più per la Russia insomma entrò e fece solo quello l'altra curiosità è che uno potrebbe dire ma un giocatore che segna 6 gol in 3 partite ai mondiali ovviamente non parteciperà mai più ai mondiali è il giocatore con la più alta media gol partita dei mondiali e invece no e invece no perché chi ha seguito questa storia fin dall'inizio si ricorderà che nel 1954 qualcuno aveva fatto meglio di lui quel qualcuno era Sandor Kocis della squadra d'oro ungherese che nelle 5 partite delle mondiali del 1954 che giocò riuscì a fare addirittura 11 gol e quindi con una media di gol per partita un po' più grande non me ne voglia Oleg Salenko ma diciamo che sono contento di questo perché sarebbe stato un peccato se il ricordo di un così grande giocatore di una grande squadra fosse stato cancellato dalle statistiche per una pura curiosità ma insomma va bene anche così quindi da questo girone passeranno Brasile e Svezia il girone C era sulla carta un girone molto interessante e si dimostrerà invece un girone che non rispetterà tantissimo le attese a vincere quel girone come da pronostico fu la Germania Germania che aveva portato una squadra non molto diversa rispetto a quella che aveva vinto i mondiali nel 1990 fatta da giocatori che in effetti iniziavano ad essere un po' avanti con l'età e patiranno tantissimo la stanchezza e il caldo durante i mondiali teoricamente come vi dicevo la Germania aveva unito i giocatori della Germania Ovest e della Germania Este ma in realtà erano quasi tutti i giocatori della Germania Ovest con l'unica grande eccezione di Matthias Sammer mediano che nel 1996 vincerà uno dei palloni d'oro più contestati della storia vinto perché nel 1996 la Germania vincerà gli europei e Sammer nel Borussia Dortmund vincerà la Coppa Campioni contro la Juventus ma in effetti dovremmo dire che forse all'epoca c'erano dei giocatori più forti ma ripeto questo è un discorso un po' più ampio la Germania seppur con qualche difficoltà riuscirà a portare a casa il risultato nella partita contro la Corea del Sud che sulla carta era la cenerentola del girone addirittura rischiò di farsi rimontare iniziò da 3 a 0 poi crollò nel secondo tempo subì addirittura il 3 a 2 e fu sul punto addirittura di prendere il pareggio dietro la Germania si qualificò invece la Spagna che anche lei con una squadra diciamo buona ma non troppo aveva chiuso il periodo di butraghegno della quinta del buitre e aveva probabilmente sui due migliori giocatori a centrocampo dove giostravano due futuri grandi allenatori cioè Luis Enrique e Guardiola Guardiola all'epoca era un giocatore non molto considerato dal punto di vista tecnico ma dotato di un'intelligenza incredibile era un giocatore che probabilmente nell'uno contro uno sarebbe potuto essere battuto da tanti ma che messo a centrocampo sembrava avere una capacità irreale di comprendere il modo in cui il gioco si ripanava e quindi diventava un ottimo centrocampista per ogni squadra sono caratteristiche che ne hanno fatto il grande allenatore ovviamente che oggi l'altro era appunto Luis Enrique che invece era un giocatore decisamente più talentuoso capace di variare in ogni zona del centrocampo trequartista ala molto abile negli inserimenti molto abile in zona golle anche la Spagna però non farà esattamente sfracelli pareggerà con la Germania pareggerà con la Corea del Sud facendosi rimontare e solo battendo la Bolivia riuscirà a qualificarsi le altre due Bolivia e Corea del Sud saranno eliminate e solo due andranno avanti il gruppo D invece era il gruppo dell'Argentina a sorpresa contro ogni pronostico a guidare l'Argentina negli Stati Uniti c'era Diego Armando Maradona come vi dicevo tutti si aspettavano che arrivasse un Maradona grasso incapace di giocare invece il Maradona che arrivò a quei mondiali era in una forma strepitosa probabilmente una forma non molto diversa da quella del 1986 da cui erano passati otto anni qualche tonnellata di cocaina e qualche migliaia di nottate di stravizi bene il Maradona che si presentò nel 1994 negli Stati Uniti era ripeto in una forma incredibile era in forma sia dal punto di vista fisico dal punto di vista del gioco come fece vedere durante gli allenamenti ma anche dal punto di vista della Verbe perché una volta arrivato negli USA iniziò a polemizzare con tutti con l'organizzazione con Avelange con Blatter iniziò a dire che avrebbe voluto fondare un sindacato di calciatori per protestare contro questa follia di giocare a mezzogiorno bisogna dire che su questo aveva pienamente ragione insomma era la guida di cui l'Argentina aveva bisogno nella prima partita del Girone contro una malcapitatissima Grecia che peraltro perderà tutte le partite del Girone l'Argentina dimostrò di essere veramente ancora guidata da Maradona Maradona non solo entrò in campo benissimo manderà due volte in gol Battistuta in pochissimo tempo e per il terzo gol farà invece tutto lui in uno scambio bellissimo io vi invito a mettere in pausa il video e andarlo a vedere perché è bellissimo Maradona scambierà una velocità incredibile velocissimo corredondo entrerà in area e seccherà il portiere della Grecia per il 3 a 0 dopo aver fatto quel gol urlando la sua gioia urlando tre anni di privazioni di polemiche di insulti Maradona corse verso la telecamera a bordo campo prese la telecamera e iniziò ad urlare un'immagine che è diventata assolutamente iconica l'Argentina vincerà quella partita 4 a 0 e improvvisamente tutti inizieranno a dire che forse l'Argentina era stata sottovalutata che mai come quell'anno poteva essere la squadra da battere la seconda partita sembrò confermare le cose giocarono contro la Nigeria squadra che era riuscita a battere a sorpresa la Bulgaria nella prima partita e che diede prova di essere molto molto forte dal punto di vista fisico addirittura costringendo gli argentini sia a vincere ma solo per 2 a 1 la vittoria però apriva l'Argentina le porte della qualificazione c'era un problema però alla fine della partita infatti mentre tutti festeggiavano era stato sorteggiato l'antidoping in un'immagine che tutti quelli che videro quel mondiale ricorderanno probabilmente per sempre un'infermiera americana scese all'interno dello stadio perché il sorteggiato era Diego Armando Maradona l'infermiera lo andò a prendere Maradona gli diede la mano è una scena assolutamente impressionante e si avviarono verso l'antidoping quando gli fecero le analisi scoprirono come aveva fatto Maradona a perdere tutto quel peso perché all'interno del suo sangue erano presenti i metaboliti dell'efederina una sostanza che come disse Maradona aveva assunto perché aveva un raffreddore ma che tutti sapevano che aveva preso per perdere peso perché era impossibile che avesse perso tutti quei chili no aveva preso qualcosa aveva perso peso e si era rimesso in forze fu un modo molto triste di chiudere il mondiale perché ovviamente Maradona fu squalificato e non poteva giocare le partite qualcuno disse che era stato beccato ad assumere la droga delle casalinghe che vogliono rimettersi in forze che era stato truffato da qualche santone che gli aveva dato i suoi preparati qualcuno disse che era stato forse addirittura truffato dalla stessa FIFA che era stata lei stessa a dirgli di fare così di rimettersi in forma per lo spettacolo perché voleva un mondiale con Maradona lei stessa che l'aveva spinto a drogarsi con la promessa che mai sarebbe stato controllato e che poi dopo le sue polemiche lo aveva punito con quel controllo antidoping la realtà non la sapremo ovviamente mai quello che è certo è che unito al fatto che non fu trovata solo Efedrina ma anche altre sostanze quelle erano state assunte per dimagrire e quella forma di Maradona aveva una motivazione la squadra rimaneva fortissima ma scossi da quello che era successo nella terza giornata persero contro la Bulgaria e così con una Grecia eliminata tre squadre arrivarono a sei punti la Bulgaria di cui abbiamo già detto che arrivò seconda la Nigeria che arrivò prima e l'Argentina che per differenza reti si trovò terza ripescata tra le migliori terze per carità per carità ma per una squadra che con i mondiali doveva stravincerlo forse qualcosa si era incrinato la Nigeria l'abbiamo appena accennata eppure la Nigeria era veramente una grande grande squadra quell'anno in difesa aveva un certo Taribo West che i tifosi dell'Inter ricordano anche in Italia più forse per le sue trecine che per altro ma che era una bestia in difesa difesa che davanti era aveva come mediano Olisè che invece passerà anche lui con pochissima fortuna invece nella Juventus l'attacco invece era quello in stato di grazia innanzitutto c'era Amuniche che ai mondiali farà assolutamente sfraceli classico attaccante pesante bravissimo ma soprattutto a lanciarlo in attacco c'era JJ Ococia ora anche qua mettete in pausa questo video e andate a cercare un video dei migliori dribbling di JJ Ococia perché? perché vi mostreranno un calcio d'altri tempi vi mostreranno un calcio fatto di tempi dilatati un calcio che sembra essere completamente diverso da quello attuale Ococia all'epoca era mitologico per i suoi dribbling fosse avesse giocato oggi probabilmente tutti lo prenderebbero a FIFA per fargli fare dei dribbling come un pazzo era un uomo che quando doveva saltare un uomo anche se aveva una strada facile da prendere no lui rallentava faceva giochi di prestigio si faceva saltare la palla sopra la testa di lato e perdeva tempo permettendo peraltro alle difese avversarie di recuperare ma non importava perché era bellissimo da vedere se sentite sottofondo di molti di quelle azioni riprese in questo modo sgranato come le azioni degli anni 90 sentirete il pubblico che fa gli olè per quello il modo in cui tratta il pallone perché non era importante il risultato era importante il modo in cui JJ Okocha faceva divertire tutti quella era la Nigeria quella era probabilmente una delle squadre più attrezzate provenienti dall'Africa che avessero mai solcato il campionato mondiale e la Nigeria a sorpresa quell'anno si qualificò come prima nel girone dell'Argentina e finalmente arriviamo al quinto girone il girone cioè il girone dell'Italia la prima partita che l'Italia si trovò a disputare fu contro l'Irlanda un'Irlanda che non era molto diversa rispetto a quella d'Italia 90 quindi quadrata forte resistente ancora con come allenatore Jack Charlton che a cui gli irlandesi avevano ormai pienamente perdonato il fatto di essere inglese diciamolo chiaramente era una partita che si giocava a New York e che era sentitissima soprattutto dalle comunità locali perché le comunità di italo-americani e di americani-irlandesi che da anni peraltro erano in lotta una contro l'altra videro quella partita proprio come la quintessenza dello scontro tra di loro e tutti gli italo-americani volevano che a vincere fossero proprio gli italiani la partita però partì malissimo in un catino terrificante con 35 gradi un'umidità prossima al 100% non un filo di vento gli italiani andarono completamente in bambola persero completamente i collegamenti tra la difesa al centrocampo e l'attacco con Baggio peraltro autore non di una grandissima partita che fu addirittura costretto più volte a tornare indietro al centrocampo a recuperarsi lui stesso i palloni perdendo così ogni possibilità di bucare la munitissima difesa irlandese e a peggiorare le cose l'Italia prese anche un bel gol da Polli che nacque in maniera completamente casuale con Baresi che sbagliò uno stop cosa diciamo abbastanza rara irlandese che colpì la palla che si impennò in un pallonetto che Pagliuca probabilmente battezzò troppo alto e che invece scese verso la porta battendolo in maniera molto beffarda un 1-0 che l'Italia non riuscì a ribaltare arrivando così a perdere la sua prima partita ai mondiali e in un girone così perdere la prima partita peraltro forse con la squadra più debole voleva dire rischiare di essere eliminati la seconda partita invece ci vide contrapposti alla Norvegia che per chi si ricorda il calcio anni 90 non era ancora quella squadra tenibile che sarà nella seconda parte degli anni 90 ancora gli mancava qualcuno in attacco pensate che nella Norvegia giocava Alf Haaland che è il padre di Haaland l'attuale attaccante appena passato dal Borussia Dortmund al Manchester City bene con una Norvegia che potremmo dire non era ripeto assolutamente niente di che ancora una volta ci pensarono gli azzurri a complicarsi tutto ci pensò ad esempio la difesa che ancora una volta traballò e costringendo in questo modo Pagliuca ad un'uscita disperata con le mani fuori dall'area per impedire ad un giocatore di segnare un'uscita che gli costò fortunatamente non un rigore per l'Italia ma l'espulsione a Pagliuca a questo punto Sacchi dovendo ovviamente togliere un giocatore per far entrare Marchegiani al posto di Pagliuca tolse a sorpresa proprio Roberto Baggio che in mondovisione iniziò a scuotere la testa e a dare del pazzo a Sacchi cosa che fortunatamente Sacchi fece forse finta di non vedere e il rapporto tra i due non si incrinò troppo nei minuti successivi le cose non fecero che peggiorare Baresi si infortunò e si scoprì poi che si era rotto un menisco ovviamente lasciando un buco in difesa coperto da Polloni e in generale il gioco continuò a latitare ma con un colpo di reni incredibile riuscimmo comunque a portare a casa un successo isperato grazie a un colpo di testa di un altro Baggio cioè Dino Baggio tre punti che ci mantenevano in lotta per la qualificazione ma che sicuramente coprivano un gioco assolutamente disastroso il pensiero di tutta Italia però andava un'altra cosa andava al capitano di quella nazionale Baresi uscito per l'infortunio e si scoprì con un menisco rotto bene Baresi che avrei potuto tranquillamente tornassero in Italia e fare tutta la convalescenza in Italia disse che avrebbe a tutti i costi voluto ancora giocare quel mondiale ovviamente non poteva farlo con un menisco rotto e per quello si fermò negli Stati Uniti e si fece operare con i dottori che gli dissero che se fosse stato un intervento fortunato e lui fosse stato bravo nell'educazione forse dicevano forse per la finale avrebbe potuto giocare beh la finale con un'Italia così chi pensava alla finale? ben pochi e in effetti la terza partita contro il Messico sembrò confermare i peggiori pensieri questa volta c'è da dire che partiamo un po' meglio davanti insieme a Baggio è stato infatti inserito Massaro e sarà proprio Massaro che ripeto si merita il suo titolo di provvidenza a segnare il gol del vantaggio dell'Italia con Baggio che peraltro va vicino al raddoppio grazie ad un lancio di Albertini nel secondo tempo però il Messico in cui c'è ancora Ugo Sanchez se ve lo ricordate che per ormai è in parabola discendente difatti non giocherà neanche questa partita il Messico grazie al fatto che gli azzurri ancora una volta scoppieranno completamente dal punto di vista fisico il Messico riuscirà a pareggiare eravamo arrivati a quella partita con tre squadre a tre punti noi l'Irlanda e il Messico meglio quattro squadre a tre punti cioè noi l'Irlanda il Messico e la Norvegia grazie alla vittoria del Messico sull'Irlanda il pareggio tra noi e il Messico ci permetterà quindi di passare ma passare solo per una semplice differenza reti arriveremo terzi e grazie probabilmente alla Russia e ai gol segnati da Salenco contro il Cameron riusciremo a qualificarci come ultima delle terze ripescate insomma eravamo andati negli Stati Uniti per spaccare il mondo il girone ci aveva completamente atterrati e soprattutto aveva atterrato quello che doveva essere il nostro simbolo cioè Roberto Baggio che non solo non aveva segnato non solo era andato via via peggiorando nel suo gioco ma aveva iniziato ad essere fischiato anche in patria dove tanti giornali chiedevano di sostituirlo l'ultimo girone il sesto il girone F era invece il girone dell'Olanda e del Belgio che tutti si aspettavano l'Olanda non era più l'Olanda del trio d'oro Rijkaard Van Basten Gulli tanti l'unico rimasto nella nazionale era proprio Rijkaard era però un'Olanda che stava cambiando pelle era l'Olanda di una nuova generazione d'oro che stava nascendo nei vivai dell'Ajax e che l'anno successivo avrebbe vinto addirittura la Coppa Campioni sconfiggendo il Milan giungendo poi in finale anche l'anno dopo questa volta invece perdendo contro la Juventus era l'Olanda dei gemelli De Boer Ronald e Frenkie De Boer uno in difesa uno in attacco ma era soprattutto l'Olanda di Denis Bergkamp ora Denis Bergkamp in Italia qualcuno se lo ricorda all'Inter come un quasi bidone ma Bergkamp divenne un simbolo dell'Arsenal era un giocatore molto particolare aveva una particolare in tà intanto aveva una paura terribile di volare difatti non volava mai ma si spostava sempre con altri mezzi e per questo era soprannominato l'Olandese non volante era però un giocatore bellissimo da vedere anche lui queste seconde punte tre quartiste aveva un ottimo colpo capacità di controllare la palla uno dei suoi gol più famosi lo segnò proprio con l'Arsenal contro il Newcastle fece uno stranissimo stop a seguire che gli passò sulla testa che devo essere sincero io continuo a credere che gli sia venuto completamente per caso ma ne venne fuori un gol strepitoso andatevi a vedere Bergkamp Newcastle e sicuramente verrà fuori quel gol ad ogni modo l'Olanda riuscì a mantenere le premesse vinse la partita contro giocata contro il Marocco che non farà un brutto mondiale ma perderà tutte le partite e perse invece la seconda contro il Belgio Belgio che grossomodo era lo stesso di Italia 90 ancora guidato da Enzo Scifo all'ultima partita del Belgio che aveva già raccolto sei punti avendo battuto il Marocco e proprio l'Olanda ci fu però una sorpresa e quella sorpresa fu l'Arabia Saudita l'Arabia Saudita aveva perso la prima partita contro l'Olanda battuto il Marocco alla seconda e si presentava quindi con qualche buona possibilità di riuscire ad arrivare terzo farà invece molto meglio perché giocando contro il Belgio dopo che la partita sembrava stare arrivando verso la fine sull'1-1 un 1-1 che avrebbe qualificato i Belgi come primi e l'Arabia Saudita appunto come terza a sorpresa i Sauditi riuscirono a passare e lo fecero con un gol strepitoso segnato da Saed al Owarain che ricevette palla centrocampo andò via in progressione lasciò sul posto tre difensori del Belgio e batté il portiere belga Proudholm che prese un gol strepitoso ancora oggi ricordato come uno dei migliori gol della storia dei mondiali un gol che regalando l'Arabia Saudita al 2-1 le permise di arrivare agli ottavi una sorpresa incredibile che ancora oggi in Arabia viene festeggiata anche in questo caso andatevi a rivedere quel gol perché era veramente veramente strepitoso e così chiudiamo questi gironi alla fine 16 squadre 6 prime 6 secondi 4 terze si erano riunite e avevano creato gli ottavi di squadre eliminate ce ne erano state pochissime forse le uniche sorprese in questo senso erano il Camerun e la Russia ma adesso si iniziava a far sul serio e le partite nonostante il caldo anzi forse soprattutto a causa del caldo riserveranno anche qui tantissime sorprese la fortuna inizialmente sembrò accompagnare l'Arabia Saudita anche agli ottavi dato che uniti alla Svezia nazione quindi scandinava erano stati mandati a giocarsi gli ottavi addirittura nel Texas il caldissimo Texas in piena estate che grande scelta intelligente ma lasciamo stare la sorpresa però anche se le condizioni lo avrebbero forse dovuti favorire a passare furono proprio gli svedesi che dimostrano di essere una squadra decisamente più quadrata decisamente più abile e batterono senza problemi i sauditi mandandoli a casa ma probabilmente i sauditi non furono così scontenti del risultato altre partite invece videro degli arbitri non esattamente al massimo della loro forza fu così ad esempio Germania-Belgio una partita che venne vinta dai tedeschi 3 a 2 tedeschi ancora una volta dimostrarono di essere in grossa difficoltà per il caldo e che riuscirono a vincere anche forse grazie all'arbitro che non assegnò un rigore al Belgio un rigore che peraltro avrebbe comportato anche l'espulsione del difensore tedesco e questo decisamente influi nella partita la vera vergogna però dal punto di vista arbitrare fu un'altra e fu Bulgaria-Messico la Bulgaria passò in vantaggio 1 a 0 ma improvvisamente l'arbitro decise che il Messico doveva pareggiare perché prima accettò un gol messicano in evidentissimo fuorigioco poi annullò un rigore o meglio non diede un rigore assolutamente solare alla Bulgaria e per chiudere la questione addirittura giunse ad espellere anche qua senza nessun motivo un giocatore della Bulgaria la Bulgaria però giocava decisamente bene e lo dimostrò riuscendo a reggere il confronto con il Messico per tutta la partita partita in cui a un certo punto ci fu addirittura il crollo di una porta giusto per dire che cosa succedeva alla fine si arrivò ai rigori e ai rigori forse il dio del calcio si decise a premiare chi se lo meritava di più oppure come si diceva appunto dio era bulgaro e la Bulgaria riuscì a passare mandando a casa il Messico ed andando così avanti ai quarti in qualche modo l'arbitro sarà protagonista anche della partita dell'Italia che dopo il terzo posto era stata accoppiata peraltro con una discreta fortuna alla Nigeria beh discreta fortuna più o meno perché è vero che la Nigeria non era particolarmente quotata ma come abbiamo visto era fatto da giocatori molto molto abili che soprattutto correvano come dei dannati e che fin dall'inizio misero l'Italia in grossissima difficoltà ora nella prima parte della partita l'Italia dimostrò tutto quello che aveva mostrato nel girone cioè di essere una squadra disunita che faceva valanghe di errori e che non sembrava essere in grado di creare neanche un'azione decente il risultato fu che non solo la Nigeria ci mise sotto nel gioco perché loro correvano e come ma ci mise sotto anche nel punteggio peraltro a causa di una papera di Maldini che liberò l'attaccante a Munique nigeriano che batte Marchegiani per cercare di ribaltare la situazione ed è qua che entrò dentro l'arbitro l'arbitro messicano Carter Brizio per cercare di ribaltare la situazione Sacchi si decise di inserire per la prima volta Gianfranco Zola il futuro Magic Box è come lo chiameranno quando andò a giocare in Inghilterra nel Chelsea un attaccante piccolino ma con una fantasia incredibile che aveva giocato anche nel Napoli insieme a Maradona originario della Sardegna questo è per i sardi ovviamente all'ascolto bene Zola che esordiva in un mondiale purtroppo avrà un esordio veramente molto molto breve perché appena 12 minuti dopo essere entrato in campo in uno scontro di gioco andò a terra stava attaccando l'aria nigeriana e il difensore gli diede una spallata e lui piccolino cadda a terra con l'arbitro che gli fece segno di rialzarsi che non c'era niente e già qua se ne potrebbe discutere a questo punto Zola corse verso il difensore che si era avvicinato alla linea di fondo e con un intervento abbastanza duro ma assolutamente sulla palla gli rubò il pallone con il difensore che andò a terra a questo punto l'arbitro fischiò secondo quanto racconta Zola quando sentì il fischio disse eh ma no ma non può aver veramente pensato che questo fosse un fallo io ho preso la palla e quando si girò verso l'arbitro vide che stava cercando qualcosa del taschino a quel punto si spaventò disse ma come mi ammonisce non solo non ho fatto fallo ma anche fosse fallo non è niente di che perché ammonirmi e invece l'arbitro tirò fuori addirittura un cartellino rosso che cosa aveva visto l'arbitro beh probabilmente niente aveva fatto una scelta terribile l'unica interpretazione che si può dare è che in effetti sarà quella che l'arbitro scriverà e che lui aveva interpretato il fallo di Zola come un fallo di reazione cioè Zola era stato buttato a terra e per reazione era andato a fare anche lui fallo ma si può dire vedendo l'azione che non ha nessun senso questa scelta ma rimanga tra me e noi Zola non protestò neanche forse troppo abbattuto forse perché è un signore anzi sicuramente perché è un signore uscì dal campo lasciando l'Italia in dieci come vi ho detto però questo mondiale per l'Italia è un po' il mondiale delle sliding doors perché fino all'88 l'Italia aveva probabilmente giocato uno dei peggiori mondiali della sua storia cosa possiamo paragonarlo al mondiale del 66 sì al mondiale del 50 sì ma lì forse fu un po' fu un po' la sfortuna insomma no fino all'88 aveva giocato uno dei suoi peggiori mondiali della storia beh in effetti non ho pensato ai mondiali più recenti ma ci siamo capiti che cosa successe all'ottantottesimo successe che un pallone arrivò a Mussi che buttò in mezzo all'area e in mezzo all'area c'era Roberto Baggio che anche in questa partita fino a quel momento non aveva esattamente fatto sfarcelli ma bastò un secondo Baggio stoppò il pallone lo buttò in rete pareggiò uno a uno e cambiò completamente il mondiale dell'Italia l'Italia che aveva strappato alla Nigeria un sogno mondiale con la Nigeria come racconteranno molti altri più avanti che ormai già si vedeva ai quarti anzi non solo ai quarti dicevano no arriveremo in finale saremo la prima africana a vincere i mondiali improvvisamente a due minuti dal novantesimo si era vista strappare questo sogno con l'Italia che era riuscita a pareggiare arrivando ai supplementari ai supplementari ancora una volta sarà Baggio protagonista ma non uno tutti e due perché prima Baggio segnerà il rigore che si procurò ben arrivo portando avanti l'Italia 2 a 1 poi con l'Italia rimasta addirittura in nove perché Mussi fu costretto a uscire per Crampi Dino Baggio salvò praticamente sulla linea di porta il pallone del pareggio nigeriano portandoci in questo modo ai quarti con tanta tantissima fatica ma finalmente tirando fuori gli attributi ci siamo capiti delle altre quattro partite una sola fu sorprendente in effetti l'Olanda batte senza grossi problemi l'Irlanda 2 a 0 la Spagna batte addirittura 3 a 0 la Svizzera anche se bisogna dire che il punteggio fu abbastanza bugiardo perché il portiere spagnolo Zubizarreta dovette superarsi in più occasioni il Brasile riuscirà a battere anche se solo 1 a 0 gli Stati Uniti gli Stati Uniti che bisogna dire furono molto coraggiosi nella partita riuscendo a tenere il risultato quasi fino alla fine prima di essere puniti da Bebeto o meglio di essere puniti da Romario che vide uno spazio di passaggio dove solo lui poteva vederlo lanciò Bebeto davanti al portiere statunitense Meola e Bebeto lo battè portando quindi il Brasile ai quarti con gli Stati Uniti che comunque festeggiarono un discreto risultato oggi fermarsi agli ottavi forse non sarebbe il massimo per gli Stati Uniti all'epoca ripeto non c'era neanche un vero movimento calcistico era assolutamente un risultatone la sorpresa però fu un'altra partita e fu Romania Argentina ora sulla carta è vero che la Romania aveva fatto un ottimo girone è vero che l'Argentina senza Maradona aveva perso l'ultima partita ma le due squadre per i bookmaker non erano neanche paragonabili l'Argentina anche senza Maradona sarebbe andata avanti e invece non fu così perché la Romania iniziò a giocare un calcio strepitoso prima passò in vantaggio venendo poi raggiunta da Battistuta poi Orgeaggi salì in cattedra e per più di una mezz'ora letteralmente regalò al mondo uno spettacolo di calcio meraviglioso che se chiedete ai rumeni è la partita più bella mai giocata in un mondiale forse io ho qualche dubbio ma sui siti rumeni la trovate definita in questo modo una partita che vide addirittura la Romania passare in vantaggio 3 a 1 con gli argentini che accorciarono il risultato sul 3 a 2 ma passare alla fine furono proprio i rumeni che insieme ai bulgari con molta molta sorpresa riuscirono ad arrivare addirittura ai quarti l'argentina se ne tornava a casa scossa per aver perso il mondiale dopo due finali di fila se ci pensate 86-90 dopo un 82 in cui comunque erano arrivati fino al girone finale un 78 che avevano vinto quindi insomma una squadra che da tanti anni era abituata a stare in vetta ai mondiali scossa per il modo in cui era stata mandata a casa scossa per il destino del suo numero 10 Diego Armando Maradona ma questa forse era un'altra storia intanto in quei giorni a festeggiare era proprio la Romania e ai quarti di finale la Romania incontrò un'altra sorpresa cioè la Svezia contro ogni aspettativa la partita in realtà fu abbastanza noiosa almeno fu noiosa fino al 78 quando la Svezia passò in vantaggio e improvvisamente accese una partita che diventò frenetica perché la Romania prima pareggiò 1-1 portando la partita ai supplementari poi addirittura passò in vantaggio 2-1 venendo poi raggiunta dalla Svezia 2-2 arrivando così ai rigori e anche ai rigori successe di tutto perché prima sbagliò la Svezia ma poi la Romania sbagliò altri due rigori e così la Svezia tra le lacrime dei rumeni riuscì a arrivare veramente in maniera molto molto sorprendente addirittura in semifinale la sfida per decidere chi avrebbe raggiunto la Svezia in semifinale fu tra l'Olanda e il Brasile che ai quarti era rimasta l'unica squadra non europea presente la partita in realtà inizialmente sembra mettersi direttamente sui binari del Brasile che aveva sostituito Leonardo che era stato espulso nella partita precedente perché aveva dato una gomitata a Ramos giocatore degli Stati Uniti facendogli esplodere il naso come vedremo non sarà l'unica in questo mondiale lo aveva sostituito con Branco che nella scorsa puntata mi sono sbagliato ho detto che giocò nel Torino invece giocava nel Genoa che però era stato anche oggetto di molte polemiche perché era considerato ormai un giocatore sul viale del tramonto e nessuno voleva che giocasse quella partita il Brasile come vi dicevo aveva ben presto instradato la partita passando in vantaggio per 2-0 ma intorno al settantesimo l'Olanda si era rifatta sotto e ispirata da un Bergkamp praticamente furioso era riuscita a pareggiare 2-2 pochi minuti dopo però sarà proprio Branco a cambiare il destino della partita venne atterrato si procurò una punizione lui che era specialista e tirando una fucilata incredibile fece 3-2 portando così il Brasile in semifinale ad affrontare la Svezia le altre due squadre che tutti si aspettavano che potessero in qualche modo arrivare in finale erano la Germania e l'Italia magari per la riedizione di quella semifinale mitologica che c'era stata nel 1970 in Messico arrivare ovviamente in semifinale lo so che mi correggerete volevo dire semifinale scusatemi la Germania però a sorpresa venne battuta ora l'abbiamo visto la Germania a questi mondiali aveva dimostrato di essere una buona squadra ma in effetti niente di che ma la partita che la vide contrapposta alla Bulgaria vide inizialmente la Germania riuscire a tenere il pallino del gioco e dopo un primo tempo di studio all'inizio del secondo tempo al 47esimo riuscire a passare in vantaggio i bulgari però non si fermarono e prima Stoichkov al 75esimo con nessuna punizione riuscì a pareggiare tre minuti dopo al 78esimo invece Lechkov con un colpo di testa famosissimo in Bulgaria che potremmo dire essere comunque brutto quanto era brutto Lechkov lo so non dover dirle queste cose ma santo cielo benedetto quell'uomo brutto quanto era brutto Lechkov riuscì a fare 2 a 1 la Germania cercò di gettarsi in avanti ma la stanchezza e il caldo si fecero sentire e alla fine la Bulgaria in mezzo ai festeggiamenti di un'intera nazione che mai si sarebbe potuto aspettare una cosa del genere riuscì ad arrivare in semifinale chiedo scusa al posto dei tedeschi e l'Italia? Beh l'Italia si era beccata una squadra diciamo abbordabile ma comunque in qualche modo che poteva dare delle sorprese cioè la Spagna in effetti diciamo la squadra spagnola non era uno squadrone ma gli aspetti ambientali erano tutti a suo favore l'Italia arrivò alla partita sulle ginocchia dopo lo scontro con la Nigeria e in più si giocò la partita contro la Spagna che aveva ben tre giorni di riposo in più dell'Italia una differenza abbastanza considerevole che oggi in effetti di solito non succede una differenza così grande ma all'epoca evidentemente i calcoli erano quelli l'Italia però non giocò una brutta partita e addirittura riuscì a passare in vantaggio grazie a Dino Baggio con la Spagna che però ci raggiunse grazie a un gol di Caminero a questo punto ci fu un intervento abitrale decisamente favorevole a noi perché l'arbitro non vide Massaro terzino dell'Italia colpire con una gomitata non volontaria chissà Luis Enrique la faccia di Luis Enrique letteralmente esplose insieme al suo naso l'arbitro nonostante la maschera di sangue che era diventato il giocatore spagnolo non intervenne e in qualche modo la scampammo anche perché sarebbe stato altrimenti rigore la scampammo soprattutto grazie a Baggio che ancora una volta si dimostrò l'ombre del partito il salvatore dell'Italia che riuscì a segnare il 2-1 lanciato in avanti superò Zubizarreta lo driblò e poi appoggiò la palla in porta da posizione angolata e ci portò tra mille polemiche spagnole e avevano assolutamente pienamente ragione in semifinale ora su questo però c'è da dire una cosina negli ottavi nella partita contro la Norvegia ricordate era stato espulso Zola e tutti avevano visto che quell'espulsione non c'era dato che non esisteva la prova televisiva la FIFA aveva deciso di basarsi esclusivamente sul referto dell'arbitro e aveva squalificato Zola per due giornate insomma prima il danno poi la beffa della squalifica non solo non fa niente viene espulso ma viene squalificato quando però Massaro con il gomito colpì Luis Enrique improvvisamente la prova tv sbucò dal nulla e Massaro sarà squalificato per otto giornate e porrà fine alla sua avventura in azzurro però in effetti ripeto quella partita con la Spagna un po' la rubammo le due semifinali quindi furono entrambe molto sorprendenti nella prima Brasile e Svezia tornarono ad incrociarsi dopo essersi incrociati nel girone e il che è strano perché teoricamente avevano voluto incrociarsi in finale non so come erano stati calcolati probabilmente è l'effetto di avere tre squadre che vengono qualificate questa situazione Brasile e Svezia non solo si erano già incrociate nel girone ma se vi ricordate incrociate addirittura in una finale di mondiale nel 1958 quello che era stato fino a questo momento il miglior risultato della Svezia ad un mondiale la partita fu in effetti inizialmente molto cauta con entrambe le squadre che per molti molti minuti si studiarono la Svezia perché temeva le ripartenze del Brasile il Brasile perché se gli svedesi in realtà non avevano niente da perdere il Brasile aveva molto da perdere perché nonostante fosse arrivato lì in patria continuavano a bastonarli per lo scarso gioco alla fine il Brasile comunque riuscì a passare il gol del 1-0 che venne con una Svezia in 10 fu in realtà propiziato da un errore della difesa svedese ma tanto bastò quel Brasile così quadrato che se fate caso fino a questo momento aveva preso la bellezza di appena tre gol di cui uno con la Svezia nel girone al risultato peraltro del girone acquisito e due con l'Olanda ai quarti di finale il Brasile con quel gol riuscì ad arrivare in finale agli svedesi con un po' di rammarico però rimase la felicità di aver disputato un ottimo mondiale nell'altra partita invece Italia-Bulgaria finalmente l'Italia entrò in campo con il piglio giusto il centrocampo Albertini Donadoni Dino Baggio dimostrò di essere finalmente il centrocampo che ci voleva creando valanghe di gioco che Roberto Baggio riuscì molto rapidamente a finalizzare alla fine del primo tempo eravamo già avanti 2-0 nel primo gol fece tutto Roberto Baggio con un bellissimo tiro da fuori area nel secondo invece sarà imbeccato e devierà in porta un bellissimo cross di Albertini con un tiro anche in questo caso molto bello e molto angolato insomma sembrava che l'Italia fosse in crescita sembrava che finalmente dopo tutta la fatica delle prime partite ce l'avessimo fatta e contro quella che era una delle più grandi sorprese del mondiale stavamo finalmente giocando una grossa partita all'ottantottesimo degli ottavi le cose erano cambiate per l'Italia purtroppo lo fecero nuovamente durante la partita della Bulgaria quando forse qualcuno pensava che potesse essere sostituito preservato per la finale Baggio ebbe un infortunio sentì pungere qualcosa nella coscia sentì qualcuno disse uno strappo qualcuno uno stiramento sentì dolore e si dovette fermare fu come un colpo per l'Italia che nel secondo tempo calò tantissimo prese il 2-1 dai bulgari riuscì comunque a portare a casa la partita e riuscì ad arrivare in finale ma Baggio nei giorni successivi venne tenuto a riposo e nessuno sapeva se avrebbe potuto giocare la finale lui ci aveva trascinato in quella finale lui rischiava di non giocarla arriviamo così alle due finali la finalina in realtà non ebbe storia la Bulgaria che probabilmente stava festeggiando da giorni il risultato ottenuto neanche si presentò in campo e alla fine dei primi 45 minuti la Svezia era avanti 4-0 nel secondo tempo le squadre evitarono di farsi ancora male e alla fine festeggiarono tutte insieme un risultato incredibile dopo tutto erano due generazioni giovani due squadre che sembravano aver raggiunto aver iniziato un periodo di maturità si aspettavano di avere dei grandissimi risultati nei campionati successivi e invece le due generazioni praticamente morirono qui perché la Bulgaria si qualificherà per Euro 96 si qualificherà per i mondiali del 98 ma non avrà grossi risultati la Svezia addirittura non riuscirà a qualificarsi le due generazioni d'oro che erano arrivate a quella finalina praticamente finirono in questo modo ma ovviamente ancora non lo sapevano e in quel 1994 festeggiarono tutti insieme un risultato incredibile quello che interessa a noi però era la finale quella finale ve lo dicevo doveva avere un protagonista annunciato cioè Roberto Baggio un protagonista che letteralmente fino al giorno della finale però non si seppe se poteva giocare anzi quattro giorni prima erano tutti sicuri che non avrebbe giocato tre giorni prima ah sì chissà forse potrà giocare due giorni prima beh sì siamo fiduciosi e solo il giorno prima si seppe per certo che avrebbe giocato avrebbe giocato in realtà praticamente su una gamba sola azzoppato addirittura con una guaina protettiva dietro la coscia per evitare altri colpi ma non sarebbe stato il Baggio del resto del mondiale questo se ci pensate è molto triste perché Baggio in nazionale ha avuto una carriera sfortunata diciamolo chiaramente in quel mondiale letteralmente avrebbe potuto spaccare il mondo e invece venne rotto proprio in semifinale l'unica notizia positiva per l'Italia fu che il suo capitano era tornato alla fine di un periodo di riabilitazione dopo l'intervento assurdo per quanto fosse stato breve Franco Baresi era tornato lo aveva promesso dopo la seconda partita quando si era infortunato sarebbe tornato a giocare la finale e così fece qualcuno aveva dei dubbi sul fatto che Baresi giocasse ma come si è infortunato venti giorni fa come può giocare invece farà una partita strepitosa lui e Maldini al centro della difesa faranno una partita incredibile e con un'Italia che diciamolo giocò assolutamente male senza grossa fantasia davanti saranno due punti fermi con il Brasile che praticamente in tutta la partita avrà una sola occasione quell'occasione fu peraltro anche abbastanza comica con Mauro Silva giocatore brasiliano che fece un tiro abbastanza da lontano che Pagliuca a sorpresa non riuscì a trattenere la palla si impennò gli andò alle spalle e colpì il palo con Pagliuca che riuscì così nuovamente ad impossessarsene resosi conto dello scampato pericolo baciò addirittura al palo che lo aveva salvato in realtà neanche l'Italia creò così tante occasioni forse l'unica vera occasione fu proprio sul piede di Baggio che lanciato dal centrocampo si trovò tu per tu con Taffarel ma sbagliò il colpo forse Baggio se avete giocato con due gambe quel colpo non l'avrebbe sbagliato ma il risultato tra due squadre così chiuse che peraltro giocarono a Rosboldi Pasadena in un caldo devastante l'ho detto per tutto il mondiale ma forse la finale fu la summa di questo caldo incredibile si giocò peraltro a mezzogiorno qualcuno intitolò la finale mezzogiorno di fuoco due squadre che arrivarono letteralmente stremate ai rigori l'Italia doveva tirare il primo rigore e a tirarlo andò Franco Baresi perché lo tirò Baresi in realtà dieci minuti prima si era addirittura dovuto fermare per Crampi si vedeva che letteralmente non ce la faceva più ma era il capitano lui doveva tirare il rigore lui aveva fatto quella corsa disperata per giocare quella finale lui doveva tirarlo e il destino fu molto beffardo perché il primo rigore tirato dall'Italia tirato da Franco Baresi fu sbagliato Baresi tornò indietro piangendo ma fortunatamente per lui il Brasile sbagliò il suo proprio rigore tirato da Marcio Santos e in qualche modo l'Italia tornò in carreggiata qualcuno disse beh siamo fortunati abbiamo Pagliuca in porta lui è un pararigore lui ci porterà la coppa ma sbagliare non furono i brasiliani a sbagliare fu Pagliuca che non riuscì a parare ma sbagliare furono soprattutto gli italiani sbagliò Massaro che si fece parare rigore e quando all'ultimo rigore l'ultima speranza italiana toccò sui piedi di Baggio a sbagliare fu Roberto Baggio ora Roberto Baggio era un rigorista era un giocatore che di rigore ne sbagliava pochissimi e nessuno pensava che potesse sbagliare proprio quello invece l'immagine più forte dei mondiali di USA 1994 è proprio la sua che parte breve rincorsa colpisce il pallone la palla si impegna vedono i brasiliani che stanno festeggiando perché quello era il loro quarto mondiale in finale erano arrivate due squadre entrambe con tre mondiali vinti ma una era rimasta tre una il Brasile era invece tornata a casa con il suo quarto mondiale così e come vanno le cose beh potremmo dire che l'Italia forse in quella finale non ci doveva neanche arrivare per il modo in cui avevamo giocato per la fortuna l'aiuto dell'arbitro nella partita con la Spagna per la fortuna contro la Nigeria però perdere quella finale in quel modo punire in questo modo due uomini come Baresi e Baggio che erano stati i migliori dell'Italia almeno nello spirito beh forse quello era decisamente troppo ma questo è il calcio e per il secondo mondiale consecutivo e purtroppo vi dico già che non sarà l'ultimo uscimmo ai Rigoi io mi fermo qua devo dire che è stata un'emozione raccontare questo mondiale di USA 1994 proprio perché io avevo le immagini fisse nella mia mente mentre raccontavo e io capisco quello che tanti di voi mi stanno scrivendo nei commenti come sempre vi dico spero di non aver fatto l'absus ma pillole così lunghe piene di nomi forse qualcosa mi può scappare poi ve lo dico anche sempre a volte dipende anche dalle fonti magari io mi guardo una telecronaca sento nominare un giocatore durante un'azione ma in realtà si è sbagliato il commentatore è già capitato in passato ad esempio nell'82 quindi se ci sono delle correzioni da fare fatemelo segnalatelo e io lo segnerò sotto la pidola così che qualcuno magari andandolo a leggere non cada nello stesso errore io mi fermo qua vi ringrazio di avermi accompagnato in questo viaggio in USA 1994 ci vediamo tra due settimane per Francia 1998 primo mondiale a 36 squadre ho paura di sapere quanto durerà quella pidola ma ringrazio Matteo e tutti coloro che mi aiutano a portare avanti questa serie sui mondiali che ringraziando il cielo sta quasi per finire ma questo me lo tengo per me quindi io vi saluto e vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere e credo che questo mondiale di storie del genere sia assolutamente pieno quindi se volete curiosare tra qualcuna di queste storie quelle dei mondiali le trovate in descrizione della playlist non l'avevo ancora detto le altre le trovate qua a fianco nell'elenco ci vediamo presto con un'opera di storia ci vediamo tra due settimane per i prossimi mondiali a presto ciao ciao ciao